Ciao amici, sono Pai. Ultimamente ho appreso che gli impianti sciistici italiani sono chiusi per il Covid. Ma a proposito, sapete come si dice in cinese shiare? In cinese si dice hua sue. Hua, secondo tono, è sue. Terzo tono, insieme hua sue, shiare. Bene, naturalmente ci auguriamo che tra qualche mesetto si riaprano quanto prima questi impianti sciistici in modo che tutti ritornino a sciare sulle Dolomiti e sulle Alpi. Ma prima, mi raccomando amici miei, ci tratteniamo ancora per qualche mese in modo che passi definitivamente questa seconda ondata di Covid. Alla prossima! Alla prossima!